Regione Toscana, il Consiglio regionale Nell'ultima seduta del Consiglio regionale si è parlato di RSA e in particolare l'occasione è stata l'approvazione di una nuova proposta di legge che identifica e definisce le distanze tra le strutture. In Toscana una struttura RSA può avere al massimo 80 posti letto e secondo gli intenti della maggioranza questa norma che distanzia due RSA di un chilometro permette e vieta che imprenditori possano fare delle strutture in serie una accanto all'altra. Critiche le opposizioni che invece fermamente si oppongono a questa norma in quanto secondo i consiglieri ferma lo sviluppo di questo settore e in particolare in Regione Toscana indicano esserci una forte richiesta da parte delle famiglie per i loro anziani e quindi c'è bisogno di nuove RSA e posti letto secondo le opposizioni. Ma noi andiamo a sentire maggioranza e opposizione su questo tema nelle interviste dei consiglieri. Nasce da una razza precisa e c'è quella di riacquisire una governance pubblica della programmazione degli interventi per la non autosufficienza. Tant'è che il contenuto, quello fisso che rimarrà di questa norma è l'applicazione del decreto legislativo 502 del 93 che prevedeva la possibilità delle regioni di introdurre una verifica di compatibilità delle nuove strutture residenziali e semiresidenziali. Cosa in Toscana non era mai stata fatta ma che ora con questa norma introduciamo. E infatti un articolo della norma che abbiamo appena approvato dice che la Giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere. Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri di urni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice che finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La razza di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di due moduli di 40 persone e quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. E' come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse, tutto legittimo però di fatto non paga le tasse. Questo è lo stesso sistema. Si elude questa norma e allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno. E' evidentemente falso chi dice che questa norma transitoria voglia in qualche maniera combattere gli imprenditori, ostacolare gli imprenditori e vogliono legittimamente investire i privati e vogliono investire in Toscana. Tutt'altro, questa norma non limita minimamente la possibilità di un investitore di fare un RSA di 80 posti in qualsiasi parte della Toscana. Dubito che chi vuole fare un nuovo investimento lo voglia fare a meno di un chilometro, a due o trecento metri da un RSA che c'è già. Chi lo vuole fare è perché vuole semplicemente eludere una norma che in Toscana però è vigente. Questa è la razza della norma. La PDL 174 che riguardava la distanza minima fra le RSA. All'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti che riguardavano ad esempio aree degradate, che riguardavano le strutture all'interno, i servizi che riguardavano. Per cui praticamente hanno allargato il percorso e secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale a tutt'altre funzioni e manzioni. Per cui noi ci siamo astenuti contro... Perché il voto di astenzione io non lo concepisco, vi dico proprio la sincera verità, perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere. Ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti, ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula. Il pianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato, bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità, ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità e anche la sostenibilità. Il sistema dell'RSA a Toscana ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento, ma anche normativa che mettono nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Una scelta che viene da lontano, dove la qualità si fa anche con l'umanità. E quindi l'umanità è anche dentro strutture che devono puntare più sui servizi che sul numero, che sulla quantità. Bisogna però nel contempo trovare sempre un equilibrio rispetto al livello di sostenibilità delle strutture. Ma la sfida che deve essere fatta, a mio avviso, resta sempre e comunque sull'innovazione dei servizi per le persone che hanno maggiormente bisogno. Tecnicamente la proposta, così come formulata, aveva un senso. E sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della Regione precedentemente. Un lassismo che è stato anche nei controlli, tra l'altro, del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando su un territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione. Perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema, quelli delle RSA e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA. E anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la Regione prima di andare a fare una modifica su questi dettagli avrebbe dovuto vigilare molto di più e sono successi anche molto recentemente. Un milione e 300 mila euro sono i fondi stanziati nell'ultima seduta dal Consiglio regionale in favore delle zone colpite dagli ultimi alluvioni nel novembre del 2023. In particolare queste risorse del bilancio regionale del Consiglio sono rivolte al patrimonio artistico e culturale quindi a dare dei ristori a quei comuni e a quegli enti che hanno avuto dei danni e che chiederanno al Consiglio del regionale un sostegno per il ripristino di attività culturali e artistiche nel loro territorio. Una proposta che ho voluto con forza. Subito dopo l'alluvione con l'avanzo di amministrazione abbiamo deciso di sostenere iniziative volte a recuperare patrimonio artistico e culturale della nostra regione. Un milione e 300 mila euro per dare risposte a chi ha avuto danni dal punto di vista artistico e culturale. Noi viviamo un tempo molto complesso, tante richieste da parte delle cittadine e cittadini a cui la Giunta sta provando a dare risposte nella maniera migliore possibile. Noi invece abbiamo voluto focalizzare l'avanzo per cercare di aiutare per esempio a chi ha avuto una biblioteca danneggiata. Perdere i libri vuol dire perdere un pezzo della nostra memoria, della nostra storia. E noi abbiamo deciso di mettere queste risorse e sono contento che sia stata approvata all'unanimità dell'Aula. Devo dire che il Consiglio regionale ha scelto di destinare una parte del suo avanzo di bilancio, un milione e 300 mila euro, per sollevare i comuni che sono stati colpiti dalle alluvioni del 2023 per quanto riguarda il patrimonio culturale. Ecco, noi abbiamo visto, approvato provvedimenti e visto provvedimenti destinati agli aiuti più in generale, abbiamo scelto di concentrarci sul patrimonio culturale perché la cultura non è un lusso, non è un accessorio che ci si può concedere o non concedere a seconda dei momenti, ma per le istituzioni è il dovere di provvedere i cittadini con fattori di ispirazione, con l'aria che si respira poi, perché questo è la cultura. E non ci dimentichiamo che nei comuni, soprattutto più piccoli, i luoghi della cultura, le biblioteche, i teatri, sono spesso anche luoghi dell'identità della comunità e quindi è un modo per prendersi cura di un bene prezioso per le nostre comunità così duramente colpite durante le alluvioni dello scorso autunno. Abbiamo votato favorevole per i soldi dati, per l'alluvione, perché riguardano le biblioteche, i teatri, tutte quelle zone dove le persone si ritrovano e quindi sono importanti per la loro memoria, per la loro identità e per la loro storia. Nell'ultima seduta delle consiglie regionali si è parlato anche di Ammiata e in particolare della strada del Cipressino. Si tratta di una via di comunicazione che collega i comuni dell'Amiata, Grossetana e Senese. L'atto comporta che la strada sia di competenza regionale da oggi e questo delinea che alcuni finanziamenti arrivano proprio su questa strada, su questa arteria, che darà respiro, investimenti e in alcuni tratti delle manutenzioni importanti per tutta l'area dell'Amiata che la collega quindi alla Grosseto-Siena. Voglio esprimere soddisfazione per questo cambio di destinazione, per questa classificazione che si modifica nella strada del Cipressino che da strada provinciale diventa strada regionale. Questo significa che non è più a carico degli enti locali, ma diventa a carico della regione. La regione ovviamente la prende in carico perché la considera una strada strategica. Ricordiamo che lì nel Sulamiata vi è un bacino geotermico piuttosto importante, ma direi che c'è anche agricoltura e al di là di tutte quelle che sono le classificazioni e il piano finanziario importante che ci è stato messo sono 500 mila euro per il 2024 e 300 mila sia nel 2025 che nel 2026. Credo che sia importante anche perché l'Amiata sappiamo che è un'area interna rientra infatti anche nelle zone delle strategie delle aree interne importante per quella popolazione perché diventa un'infrastruttura che collega, sono 30 chilometri ma veramente strategici che sono attesi dalla popolazione amiatina ormai direi da numerosi anni strategica perché li collega alla strada statale la 223 che è la strada appunto Grosseto-Siena. Un'area interna che in questo modo può permettersi di svilupparsi ulteriormente sede appunto agricola anche di prodotti particolari di prodotti caratteristici e quindi non possiamo che esprimere appunto una soddisfazione. Tra l'altro devo dire che l'Amiata è un comprensorio che è sì grossetano per metà ma l'altra metà è senese. È una novità positiva nel merito perché sicuramente si aiutano quei territori e si dà una piccola risposta in termini di infrastrutture alla Toscana del Sud. Dal punto di vista del metodo come al solito è una già nata nel senso che è una promessa fatta direttamente dal presidente agli amministratori locali tant'è vero che ha fatto una conferenza stampa prima ancora che il Consiglio regionale si esprimesse e tant'è vero che la maggioranza ha fatto un ordine del giorno per chiedere al presidente di fare quello che la regione dovrebbe fare cioè la programmazione per garantire a tutte le province non all'ultimo amministratore che riesce a parlare col presidente ma a tutte le province un trattamento diciamo paritario perché la situazione delle strade provinciali è molto complessa in tutta la regione. Chi ha seguito le gesta del nostro presidente durante questa legislatura sa che anche nelle operazioni di variazione di bilancio si sta molto a guardare a singoli interventi è un modo dice lui di aiutare gli enti locali ma chiaramente è in dispregio ai più elementari principi di trasparenza ma soprattutto di imparzialità sul territorio. Ovvio che di fronte a esempi di questo genere tutti gli amministratori sono spinti non a stare ad aspettare gli atti di programmazione della regione ma a rincorrere il presidente per cercare di carpire ovviamente qualche promessa e questo ne va a discapito come denuncia lo stesso ordine del giorno del PD della parità di trattamento e dell'omogenea distribuzione delle risorse. Con questo tema giunge al termine anche questa puntata del Consiglio regionale della Toscana noi qua da Firenze con le immagini di Marcello Sani chiudiamo la nostra puntata settimanale e vi ringraziamo per essere stati con noi. Regione Toscana il Consiglio regionale